Ciao ragazzi, oggi mi trovo all'ospedale psichiatrico di Monbello, ho trovato l'accesso vicino agli edifici della lavanderia, almeno mi pare che siano quelli. Qua vedo che c'è questa botola, ma non c'è una scala quindi così non si riesce ad entrare. Sì c'è una galleria sembra che va di là, di qua è chiuso, ecco. Sì c'è una galleria a quanto pare. Si dovrebbe riuscire ad arrivare anche sull'ancima perché un paio di anni fa ho visto delle persone sulla... non si è tutta anche qui, ricordo ci sono diverse botole chiuse. Ecco là, quella credo che sia la villa. Di qua si sale e qui sotto c'è la galleria che sale, che segue il pendio. Ecco sotto lì. Buon c'è la pizzeria. Grazie. Grazie. Ci sono dei sacchetti, non vorrei che qui dentro ci sia qualcuno. Qui un tempo c'era il reparto degli agitati, è rimasto solo il cancello. Il reparto degli agitati. Bisogna immaginare come erano i tempi, quando era ancora utilizzato. Qui mi pare che c'era la mensa. Michio. Michio. No. Michio. No. 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 Grazie. Grazie. No, non mi fiedere. Grazie. No, non lo so. No, no, qua ci sono i vetri, magari cadono. Eccola qua. La villa Crivelli. Che bello che è. La cappella gentilizia. Purtroppo chiusa. Ecco la prova dell'esistenza degli alieni. A. Ascolti. ecco qua l'accesso a uno dei tanti sotterranei che mi da volta Cristo che spavento proviamo a uno dei tanti sotterranei che spavento mi pare di aver sentito un cromore sarà autosuggestione ma ho già fatto un percorso troppo lungo da solo da solo qui sotto io sono salito di qui qua c'è una poca d'aria c'è solo una controllatina la chiude qui andiamo a vedere qua ok 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 l'ultima cosa prima di andare ok 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 qui c'è ancora dentro l'acqua ok 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 non è collegato questo vano sotterraneo questo ambiente sotterraneo non è collegato con i piccoli con i piccoli con i piccoli di là ho già visto finisce poi c'è la finestrella che va di là e quella che va di qua solo che già un pochino allagato di là adesso adesso ritorno agli edifici della lavanderia passando per il prato dove c'era il reparto degli agitati e torno a casa ecco eccola ancora là uniciu quanto vorrei scendere qui per vedere dove è diretto va bene va bene e qua c'è un'altra va bene e qua c'è un'altra ecco collegato di qua eh no ma c'è il passaggio che va di là va verso di là almeno così sembra bene bene ragazzi anche per oggi l'esplorazione è finita spero che il video vi sia piaciuto è stata un'esplorazione un po' diversa dalle altre ma in ogni caso ho intenzione prima o poi di tornare a quelle grotte alla alla cascata del ceng nella badia che o se riguardando il video di quella piccola grotta dove sono sceso quella scaletta mi è sembrato di sentire un il suono di un di gocce d'acqua oppure di un di un corso d'acqua un piccolo ruscello sotterraneo quindi vedrò presto di tornarci perché eh se si riesce voglio vedere come va avanti comunque ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti